Amici di Radio Torre Ribera, continuiamo il nostro percorso, siamo in compagnia di Giovanni Ratti, conosciutissima pizzeria Pellini. Giovanni, oltre che è un amico, è un grandissimo pizzaiolo, non sono io a dirlo, ma sono i meriti che a lui vengono riconosciuti. Primo classificato, campionato del mondo, pizza squadra 2022. Giovanni, cosa fai oggi qui e cosa ci racconti? Oggi, con l'iniziativa che ha fatto il sindaco, dopo 25 anni, ma se ne è che ciò, mi sono cresciuto in questo ambito, in situazione della vita. E' una cosa che sono ritornato bambino, sinceramente, è stata una cosa molto bella, di acquistare i valori della nostra villa, una delle più belle, la Pregia Grigento, quindi perché non farlo? Quindi grazie a Matteo ci siamo riusciti, è stato un bellissimo evento, anzi, per il primo anno è stata una bellissima soddisfazione. Poi ho proposto di fare una pizza fritta, perché dobbiamo fare un finti e fulti da oggi, diciamo, una pizza fritta con mussi di filadelfia, mortadella e pistanchio, oppure la classica mondanara, San Marzano, per farmi latte campano. E l'ho portato qui perché ho fatto un impasto molto fiabilis, quindi abbiamo una biga, quindi un impasto prefermentato, e poi andiamo a mettere il nostro impasto, facciamo altri quando è il dottore di ripetizione. E la sua fiabilità permette sì che, da una croccantezza alla pizza, è una leggerezza e morbidezza allo stesso tempo. Devo dire che ieri sera ho avuto il piacere e l'onore di poterlo assaggiare, complimenti, durissimi. Una domanda all'ultima che viene dal cuore, che emozioni ti suscita essere oggi qui in primo piano? Menzioni importantissime perché il Paese ha capito cosa abbiamo fatto nell'ambito degli anni, nel corso degli anni, e quindi ci ha dato soddisfazione e il mattino ha potuto essere, potuto mettere il primo posto, cioè il primo stand. Grazie Giovanni, buona continuazione sia per questa fiera ma principalmente per il futuro. Grazie mille. Grazie a tutti.